E' suonata la prima campanella per i parlamentari stamattina tra i banchi di Montecitorio e Palazzo Madama è iniziata la diciannovesima legislatura con l'elezione dei presidenti delle due camere. Nonostante il taglio dei due terzi dei parlamentari c'è anche un po' di arezzo nei palazzi berliniani seppur molti commentatori lamentino l'assenza di un aretino puro sangue. Ma insomma ci sarà di nuovo Tiziana Nisini, ex assessore del comune aretino e sottosegretario al lavoro uscente del governo Draghi che per la sua seconda esperienza come rappresentante siederà invece alla Camera. Visto che è stata eletta nel collegio uninominale di Arezzo, è invece di Grosseto la senatrice eletta nel collegio uninominale per il Senato con il debutto di Simona Petrucci, l'assessore all'ambiente del comune grossetano che tuttavia si è detta impegnata ad aprire uno sportello proprio nella nostra città per recepire le problematiche del territorio. Nessun aretino ancora tra gli eletti al collegio plurinominale per la Camera tra cui figurano invece figure di spicco come la Boldrini insieme a Simiani e Licciardi. Idem per il Senato dove nel collegio plurinominale tra gli eletti che vanno da Renzi, Borghi, Liccheri alla Santanchè non si ravvisano aretini ma solo candidati catapultati da ogni altro dove. Ci sarà però in Parlamento chi ad Arezzo ha legato le sue battaglie e infatti sarà la prima volta alla Camera per Letizia Giorgiani che seppur eletta nel collegio di Caserta nel nostro territorio si è fatta conoscere come con le sue battaglie legate alle vicende del crack di Banca Etruria con la sua associazione, vittime del salvabanche. E ovviamente ci sarà ancora la Montevarchina Maria Elena Boschist eletta stavolta in Calabria, ormai abituide ai palazzi romaniche con la sua terza elezione consecutiva e ormai diventata tra i punti di riferimento in ambito nazionale per il terzo pollo di Renzi e Calenda. Insomma un po' di Arezzo c'è, magari un po' in qua, un po' in là seppur con qualche altra contaminazione territoriale. Ma forse occorrerebbe mettere da parte il campanilismo e piuttosto che stare a focalizzarsi sul pedigree dei nostri parlamentari guardare che costori effettivamente vigili e non si faccino carico dei problemi delle istanze del territorio che sono chiamati a rappresentare.